Come ho già detto prima in sala, questa serie è stata sviluppata più che altro durante il lockdown, cioè dall'inizio del lockdown fino alla fine è anche un po' oltre, abbiamo lavorato a distanza, abbiamo dovuto lavorare con un cellulare, quindi è una serie che ci ha tenuto compagnia e ci ha risparmiato e salvato dalla noia del lockdown e dalla depressione che questa situazione potrebbe acchierare. È una serie a cui siamo veramente affezionate, siamo veramente felici di essere qui di presenza in quest'anno un po' funesto, ci hanno regalato una grandissima gioia. Dal futuro del settore dell'audiovisivo, noi ci siamo diplomati ieri, quindi stiamo entrando adesso nel mercato dell'audiovisivo, nel mondo dell'audiovisivo. Quello che speriamo di trovare è apertura, voglia di cimentarsi in nuovi racconti, nuovi razzonti, nuove storie, è un'apertura più che altro.